Porta caricatori per Kalashnikov Strictar ex Germania Est dotazione National Volksarmee nuovo perfettamente ben conservato passanti in cordura grigio chiusure metalliche a estrazione rapida passanti metallici fermi metallici può contenere quattro caricatori al Kalashnikov comodamente e sul suo lato troviamo una taschina porta kit di pulizia ovviamente viene venduto senza solissimo materiale impermeabile timbri identificativi interni ben cucito tipico minetismo Germania est derivante da quelli Wehrmacht seconda guerra mondiale